Buonasera a tutti ragazzi, oggi vi presentiamo una delle ultime new entry a quattro ruote datata 1971 una meravigliosa esemplare di una Fiat 500 L appunto come dicevo anno 1971 esemplare veramente stupendo, restaurato esteticamente nella verniciatura e tutto il resto è un conservato ancora come nell'epoca del 1971 quindi qualcosina c'è da fare internamente ma cose classiche di vetustà dettate dal tempo ed utilizzo ma l'auto è perfettamente funzionante, in ordine, tutto a corredo, veramente speciale eccola qua come vi dicevo anno 1971, l'auto è già iscritta a asi storica quindi già tutto pronto all'uso per voi ora ve la facciamo sentire anche in movimento, velocemente è veramente uno spettacolo vai erogazione power di questo old style a palla la mitica Fiat 500 L in descrizione troverete tutti 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 i dettagli un ampio report fotografico all'interno del nostro sito per vedere ogni piccolo particolare l'auto è già disponibile in sede da noi e come sempre vi aspettiamo a venire a visionare questa meraviglia degli anni 70 una delle icone del made in Italy più grandi di sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti